ciao pietroccose e pietroccosi benvenuti in questo nuovo video rilassantissimo e delicato asmr mi è successo il giorno del mio compleanno di ricevere un'email da parate dell'erbolario azienda della quale sono cliente e in questi email c'è un codice sconto un codice speciale più che un codice sconto grazie al quale ho diritto a una spedizione gratuita sul mio prossimo ordine è un omaggio a sorpresa mi è arrivato il pacco stamattina un po' in ritardo rispetto al mio compleanno e l'ho lasciato chiuso perché ho intenzione di aprirlo proprio insieme a voi guardate adesso andremo a tagliarlo insieme sono riuscita a resistere a non aprirlo e l'ultimo che ho fatto c'è una crema corpo è della stessa linea di un profumo che utilizzo dall'anno scorso e che in estate adoro indossare perché mi fa sognare il sudore ora mi piace tanto farmi degli autoregali per il mio compleanno in questo caso è un 50-50 perché in parte è un mio acquisto e in parte è l'omaggio dell'azienda penso che lo faccia con tutti i clienti comunque per quello che riguarda la profumazione della crema per me è una sorpresa perché non ho mai provato la crema però so che tutte le creme dell'erbolario hanno una profumazione veramente molto intensa tanto da poter addirittura sembrare un profumo ora poiché sto esaurendo il profumo e ultimamente non mi piace molto spruzzarmi qualcosa addosso soprattutto perché i profumi li metto sui vestiti ho pensato quasi quasi mi ordino la crema anche se comunque è un prezzo piuttosto elevato per essere una semplice crema solo che questa cosa la contraddistingue questa cosa della profumazione intensa inoltre è un odore che mi fa sognare e già questo per me è fondamentale sai, sai benissimo che sono una sognatrice e tutto ciò che mi fa sognare lo accolgo e spesso acquisto delle cose semplicemente perché alimentano i miei sogni e mi fa sognare appunto di essere nella polinesia francese dove questa profumazione è molto famosa infatti è tipica dell'isola di Tahiti il fiore di tiere viene proprio da lì intanto la chiudere la scatola è tutta decorata con foglie e fiori bellissima e andiamo a rompere il sigillo con il coltello ok ok, perfetto e apro la scatola va bene va bene e rovescio infatti c'è qui la scritta il nervolario c'è una foglia di vite ripisco questa cosa è l'ortensia questa non so che foglia sia una pera un povero? sì questi sono dei narcisi rosa non saprei cosa sia questo sembra una cruma un fiore di nero lì bella bella già la confezione sterna adesso apro bella bellezza naturale 100% made in it amica delle persone degli animali e dell'ambiente all'interno della scatola c'è questa scritta dell'ambiente centri all'ambiente dell'ambiente un pianeta una borsa apriamo un pianeta una sacca per la spesa però io credo proprio che la utilizzerò per portarmi dietro cosmetici ci metto dentro la spazzola brutti per i capelli crema per il viso detergente per il viso si 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 ultimamente mi sposto molto spesso bellissima mi piace anche il colore qui c'è scritto verbolari mi piace anche il colore il tessuto è molto forte bella un buon odore bellissima grazie poi guardate un po' ci sono altre cose questo è un bigliettino in busta tutto decorato grazie per aver scelto l'erbolario qui c'è un buono sconto del valore di 10 euro su un acquisto minimo di 40 euro c'è un cupon lo scorso ordine c'era pure questo buono sconto però non l'ho utilizzato perchè non c'è un negozio fisico l'erbolario qui vicino casa mia quindi solitamente ordine online o tramite amazon oppure direttamente dal sito dal loro sito l'erbolario vediamo un po' qui ci sono caramelle erba mea gusto camomilla e limone wow che belle ingredienti zucchero sciroppo di glucosio acidificante acido tartarico aroma naturale di camomilla aroma naturale di limone sono pure biologiche certificate c'è la certificazione che pregoi più fantastico voi essere chore una adesso mi piace che non devo soffrire una? mi piace buona, si sente tantissimo l'aroma di camomilla bene bene, concelli il sonno bigliettino di auguri bianco, ho richiesto la confezione regalo mi ero mandato questo bigliettino e la scatola, che bella tutta fiorata ci sono le corfalle pure qui un altro qui bellissimo faccio insieme fascia elastica verde con la scritta l'arbolari 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 fiocchettino guarda che carino abbiamo una scatola queste caramelle sono buonissime e non sono un amante di caramelle già leggo la scritta di orella guarda 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 la crema in 200 ml sostanze funzionali caratterizzanti monoi burri di monoi e carité oli di cocco e girasole biologico latte di cocco e monoi estratto di fiori di diaree le donne le donne polinesiane sono solite affidare il seducente splendore delle loro pelle al monoi che la tradizione ottiene per macerazione in olio di cocco di 12 fiori di diaree per 12 giorni qui presente anche nella sua forma burrosa affiancato al burro di carité il monoi svolge al meglio la sua attività super compattante nutriente restitutiva mentre l'estratto di fiori di diaree disperso in olio di monoi e il latte di cocco spiccano per le loro virtù idratanti antiossidanti e protettive ti rendi conto? sono davvero sorpresa eppure è un prodotto che ho comprato guardateli guardato prima di comprarlo eh sono sorpresa come quando si riceve proprio un regalo felice apriamo la scatola all'interno è blu tutto faccio la scatola con un odore buonissimo dentro c'è qualcosa dentro c'è qualcosa cos'è? campiuccino crema viso alla pappa reale super nutriente anti rug wow questa qui questa qui l'aceto mia mamma per ora uso una crema leggerissima la mia pelle la mia pelle non ha grandi esigenze l'estate sono quasi a posto ho una pelle quasi normale lo metto metto di lato le scatole un po' sulla crema voglio provare voglio provare anche qui nel flacone c'è scritto quello che è scritto anche nella scatola bellissimo bellissimo il packaging è sigillata la apro wow mi sa che le creme dell'herbolario mi piacciono più dei profumi addirittura tra l'altro poi sulla pelle si sente come se si mettesse il profumo è molto morbida le mie mani sono wow piuttosto burrosa consistente sento le mani morbidissime pure oggi avrò messo il gel igienizzante un migliaio di volte e le mani ce le avevo ridotte vi dico le secche con la pelle in evidenza un po' screbolata in superficie wow da sogno confermo prevesco di rallungare ai profumi d'ora in poi poi penso proprio che comprerò solo crema l'herbolario mi sa tranne che è un cambio di nuovo idea però questa caspita è molto più buona del profumo si sente tantissimo wow wow da questa scatola mi sto sentendo super coccolata quante cose un packaging fantastico c'è dell'altro ho scelto dei campioncini tra quelli disponibili tra quelli disponibili in pratica io ho scelto quelli per i capelli kit di prova per i tuoi capelli tutto questo cartone sfigazzato è pure esteticamente gradevole per l'imballaggio si si io comunque questa scatola me la conservo ci metterò dentro qualcosa di sicuro intanto apro questa scatolina qui che è l'ultima la peramella è finita forse è pure la lingua gialla notevole 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 quanti campioncini ci sono dentro allora allora da qui effetto reale siero riparatore per capelli trattamento insintensivo previene riduce la formazione di doppie punte c'è un'ape disegnata con la pappa reale forse con la pappa reale si poi c'è balsamo nutrimento intenso per capelli secchi svibrati agli aminoacisti della pappa reale all'ibisco nutre fortifica credo che sia un'unica applicazione considerata la mole dei miei capelli si 5ml maschera super nutriente potenzione restitutiva per capelli secchi e svibrati pappa reale aminoacidi burro di carita questo è di più 10ml doppio e infine shampoo nutrimento intenso per capelli secchi e aminoacidi della pappa reale alla castagna nutre ristruttura 8ml devo provare tutto sono super curiosa chissà poi che profumo hanno visto le profumazioni per cui è famoso appunto l'erbolario meraviglioso sono felice anche di aver aperto questo pacchettino insieme a voi è stato davvero piacevole è stato tra l'altro ricco di sorprese adesso adesso smetterò di annosarmi le mani non vedo l'ora di farmi la doccia e mettere questa crema su tutta la pelle del corpo e poi uscire super profumosa e sognare Tahiti che bello spero che tu ti sia rilassato rilassata mi raccomando iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto ci vediamo alla prossima su Angela Pietrucco ciao